La fumata è bianca. Abbiamo il nuovo commissario della sanità calabrese. Come avevamo già preannunciato, si tratta del 72enne Massimo Scura, ora in pensione, già direttore generale dell'ASDL 7 di Siena e dell'ASDL 6 di Livorno. Infine per 12 anni è stato direttore generale dell'azienda municipalizzata dei servizi della città di Terni. Si occupava della gestione di energia, acqua e successivamente di rifiuti solidi urbani. Dalla gestione dei rifiuti alla gestione della sanità la differenza è enorme, ma ce la farà alla sua veneranda età a dirigere la complessa e disastrosa sanità calabrese? Lo speriamo. Lui, che è originario di Gallarate in provincia di Varese e quindi Nordico, sa in che condizioni versano i nostri ospedali, certamente non li conosce, non ha mai avuto il piacere di essere ricoverato qui in Calabria. Una nomina, questa di scura, che ha fatta dirare il governatore della Calabria, Mario Oliverio, che fino alla fine sperava di essere nominato lui, quale commissario della sanità. Ancora non riesco a capire cosa impedisca la mia nomina commissario della sanità, avrebbe detto con voce sostenuta all'interno del Consiglio dei Ministri, dove era presente. In questi giorni nessuno mi ha chiamato per confrontarsi con me. Sono il presidente della regione con un mandato diretto dai calabresi e mi avete lasciato solo per mesi davanti a problemi gravi per la Calabria, ha gridato al CDM e qualcuno dei ministri presenti avrebbe detto che questa non è la sede del partito. Oliverio ha ripercorso la vicenda evidenziando le inadempienze perché doveva essere nominato la vigilia di Natale e poi trascinata fino al 2015 per impedire la nomina quando, secondo il patto della salute, le sarebbe stata preclusa dalla legge. Per Oliverio si è trattato di un grande sgarbo istituzionale e dunque ora è pronto a cominciare una battaglia legale.